5 secondi alla partenza pronti? via! partita la quattordicesima edizione della maratonina di Casal Maggiore 6 km, 14 e 21, più di 500 iscritti, poi ci daranno i numeri giusti è una marcia non competitiva, non agonistica, siamo noi organizzatori a ringraziare tutti i partecipanti tutti coloro che intervengono in questa bella giornata di sport libero e sport in salute quindi grazie anche a tutti quelli che con un spirito di solidarietà vengono per partecipare a questa nostra marcia Grazie a tutti